Nuove opportunità in arrivo dalla Regione Abruzzo per gli apicoltori. È stato pubblicato infatti l'avviso che dispone aiuti al settore per una spesa totale di 264.271 euro. Lo ha reso noto l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe che sottolinea con le risorse messe a disposizione la Regione permetterà agli apicoltori di programmare e realizzare azioni concrete per il rilancio della propria attività dalla formazione tecnica all'acquisto di arnie e attrezzature fino al sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo. L'Abruzzo ha un importante patrimonio apistico che conta più di 45.000 alveari posseduti da oltre 600 apicoltori, 183 in provincia di Chieti, 237 all'Aquila, 123 a Pescara, 148 a Teramo, prosegue Pepe ed una produzione lorda vendibile di miele stimata di circa 5 milioni di euro l'anno. L'apicoltura rappresenta non solo un'importante risorsa del comparto agricolo abruzzese ma anche un'attività dalla forte identità territoriale custodita nell'antica tradizione e delle tecniche di allevamento. Il settore apicolo affianca l'economia anche qualità e competenza. Infatti, conclude lo stesso Assessore Pepe, la recente ricerca sul settore effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Mulise ha inoltre certificato l'eccellente qualità dei prodotti ed una rilevante professionalità degli operatori. Le domande dovranno essere inviate entro 45 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.